La succursale del liceo Brunelleschi inaugura un nuovo spazio espositivo, ma continua a fare i conti con la mancanza di aule e di laboratori. Intanto è tramontata anche l'ipotesi di via Strozzi dove costruire la nuova sede, a causa delle numerose infiltrazioni del terreno. Stiamo lavorando di concerto con il Consiglio di Istituto per trovare delle soluzioni. Di fatto già la provincia al 30 d'aprile ha candidato gli studi di fattibilità per la nuova sede del Brunelleschi qui a Montemurlo e della nuova sede del Livi invece su Prato al bando del Ministero. La provincia ha pubblicato anche una manifestazione di interesse per cercare un nuovo stabile da destinare al liceo Livi per il prossimo anno scolastico. Ancora un po' presto per tirare le conclusioni, però stanno arrivando alcune chiamate dove vengono chieste informazioni in merito al bando. Intanto però gli spazi mancano nella succursale di via Napoli. Le cinque aule, due sono troppo piccole per ospitare le classi che in media hanno 25 alunni. In questo spazio potranno far vedere il lavoro che sta crescendo con loro e farlo fruire al territorio e alle famiglie, insomma un'apertura al mondo esterno. A inaugurare il nuovo spazio una mostra di 49 progetti elaborati dagli studenti del Biennio per abbellire l'ascensore. A votare il vincitore, insegnante, studenti e alunni.